Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipillin direzione Livorno code a tratti tra Scandicci e la Strassigna e in uscita alla Strassigna. Code a tratti anche tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze e per i cantieri della tramvia dalle 21 di stasera per i lavori di asfaltatura in piazza stazione previsti restringimenti di carreggiata nella corsia da piazza dell'unità italiana a largo Alinari con chiusura del barco tramviario in Alinari. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!